ciao a tutti e benvenuti a questo quarto vblog su sine requie questo quarto vblog continueremo a rispondere a vostre domande potevo anche non dirlo andiamo avanti allora ecco jacopo rodelli si era il mio staccetto musicale nei momenti di pauta domanda per il master ma possono rianimarsi solo gli uomini o anche gli animali sì sì anche i dinosauri anche alcuni animali si possono rianimare in sine requie yes ritornero come morti non tutti non è chiaro come mai alcuni si altri no i dinosauri possono rianimarsi e sono scheletri ripeto non muscoli no movimento ciccia quindi no nel senso no servono i muscoli chiudo qui se poi gli autori di sine requie mi vorranno smentire faranno pure se vogliono mettere spero di no ragazzi vi prego se vi state se vi state vedendo non so perché vi state vedendo ma non mettete dinosauri che escono tra le tombe vi prego perché se no da puttanaio allora tra l'altro sono felicissimo che i blog vengono condivisi sulla pagina facebook di sine requie allo stesso tempo spaventato perché potrei dire tante castronate quindi come al solito prendete il mio parere come un parere personale quindi non verità assoluta ovviamente perché io non sono uno degli attori né uno dei redattori nella stereo quindi non ho la la verità assoluta ok mi sono parato il culo andiamo avanti maurizio camarda domanda per il cartomante si può pensare alla campagna che inizi per esempio nel sanctum imperium e poi si passi al quarto light si piccolissimo esempio i personaggi sono spinaziste in missione d'italia e poi devono tornare a casa certo si possono fare non è un grosso certo si possono fare tutte queste cose però devi sempre ricordare che il passaggio tra una di queste superpotenze superpotenze nel senso queste nazioni dittatoriali nel mondo di sine requie entrare uscire da ognuno di esse è molto più difficile queste persone che i confini sono quasi quasi sempre armati sorvegliati o comunque delimitati da da strutture naturali le alpi per esempio e quindi è difficile passare in osservati non impossibile ma più difficile magari è più facile entrare nel sanctum imperium è più facile però come al solito puoi entrare in una cittadina del sanctum imperium entrare in un borgo di del del quarto ora anche molto difficile invece è impossibile almeno io non lo farei fare un'infiltrazione nei soviet perché a parte che è molto lontano le città sovietiche sono molto lontano quindi devi proprio avere una bella voglia un bel cingolato per arrivarci secondo ci sono le biomacchine che pattugliano tutte le zone intorno alla città e quindi hai voglia poi entri sei l'unico senza senza il codice a barre quindi ti uccideranno tutti lo vedo un po difficile nel regno di osirite è più facile ma il regno di osirite è anche più permissivo non mi bilancio su usa perché purtroppo non ce l'ho mi piace un po' un sacco ma al momento non ce l'ho la seconda domanda sempre di maurizio camarda si può decidere di giocare anche in altri anni come novello cartomante mi sarebbe piaciuto creare un gruppo che aiuti il dottor pelagatti a compilare il sine requie wow buio allora sì certo nel senso non penso che ci siano grossi problemi sine requie anno 13 semplicemente da vi fa sapere cosa è successo cos'è il mondo 13 anni dopo il risveglio dei morti se tu vuoi invece ambientarlo prima sei puoi benissimo farlo non hai grossi problemi anzi sarebbe molto interessante la cosa di accompagnare pelagatti nella sua prima compilazione del sine requie perché ne fece due mi è venuto in mente ieri lavoro pensate come dove va la mia testa mentre lavoro che se io voglio colpire una parte specifica del corpo ho un malus e la domanda è se fallisco il check si lo manco ma pensando ci fallisco nel beccarlo dove volevo io quindi non è che c'è la possibilità che colpisco in un altro punto ah golosone no nel senso la regola è quella ragazzi se mi rompo a un parte precisa del colpo ma manco non è che ah no allora ti faccio colpire un'altra parte del corpo no è l'hai mancato punto golosone ci hai provato Artusi ci hai provato Kaja Isa nell'ultimo stituto di sine requie si è parlato di animali non morti per scherzare avete detto ma se si immagina un animale non morto poi la salsiccia mi attacca ovviamente questo non può succedere ma questa carne sarà rifetta può venerare fino allo stadio non morto ricordo che in sine requie non è un virus non c'è un virus che ti fa diventare un non morto ma è soprannaturale l'unica controindicazione del mangiare carne di un animale che si è rivelato come morto è che putrerà la carne quindi ti ucciderà si diventerai un morto ma perché se il tuo personaggio è scemo perché ha mangiato carne putrida che poi l'ha fatto l'ha fatto ammalare e morire è lì la differenza malamente Dark Forsakia no ok domanda per il cartomante le zone occupate dagli umani si limitano a resistere ai smedi dei morti o cercano di riconquistare alcune terre perdute no in realtà allora a parte le terre perdute che appunto sono perdute non c'è coordinazione gli altri stati in qualche modo cercano di guadagnare ovviamente il territorio l'espansione è sempre stata tipica dei domini tirannici perché la conquista distrae la popolazione anche anche annettere un territorio in definitiva è inutile è rallegra distoglie l'attenzione dalla popolazione e comunque ha dei vantaggi poi fisici quindi un po' tutti queste grandi dittature si sono allargate tranne i soviet credo perché sono chiusi su loro stessi il quarto Reich si è allargato ha conquistato la Svezia ha conquistato la Norvegia ha allargato dopo essersi ritirata è tornata verso Parigi il sanctum imperium ha riconquistato ovviamente tutta l'Italia è iniziato a conquistare un pezzettino della Slovenia ed è andata nella piccola Italia dove si trova Albione il regno di Osiride invece ha mantenuto più o meno la forma dell'antico regno di Osiride e non ha messo nessun particolare territorio però di solito c'è nel senso si resiste soprattutto ma ci sono poi delle azioni militari per ripulire altri territori ovviamente sono dove c'è un'organizzazione militare Kageisa di nuovo se una persona viene infettata bisogna tagliargli l'arto morso o c'è la cura non è un'infezione non è un virus è soprannaturale se muori non importa come sei morto ti rianimerai come un morto vivente e attaccherai chiunque fino ad allora chi se ne frega al massimo un morso ti può infettare l'infezione ti può uccidere una volta morto diventi un morto ma l'infezione il morso in sé non ti trasforma in morto spero sia chiaro Mr. Troll Necrocartocoso puoi spiegare la differenza fra arcani maggiori e minori e le carte da poker che si usano in signe requie? allora gli arcani minori sono le carte normali le carte da poker come le chiami tu gli arcani maggiori vengono usati solo per dati check particolari gli arcani maggiori sono i tarocchi ragazzi si usano per distanza dalla morte per vedere la zona colpita in combattimento per i tiri di karma e per i tiri di occulto forse me ne sono dimenticata uno ma di base sono queste mi sembra che siano questi i quattro particolari utilizzi del 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 tarocco del tarocco maggiore a meno che non giocate solo con i tarocchi con i tarocchi con gli arcani maggiori che sono i tarocchi gli arcani minori sono le carte normali cuori picche fiori quadri vengono usati per tutti gli altri check ogni volta che devi usare tutte quelle abilità e praticamente funzionano come un dado alla fine mentre i tarocchi sono da interpretare il l'estrazione degli arcani minori è molto è proprio numerica a parte le figure che hanno delle varianti ok kageisa di nuovo ma non me le puoi fare tutte in una volta sola kageisa immagino che ti vengono una prima poi una dopo un'altra una dura un attimo le idee e farle tutte insieme suggerimento kageisa un non morto consenziente può mantenere consenziente cosa ti ha dato il permesso di si voglio io ti sposo sono consenziente capisco cioè morto cosciente volevi dire morto consenziente ti ha dato il permesso per qualcosa sa che ti ha dato il permesso non c'entra nulla morto cosciente può mantenere il controllo e vivere come i normali umani cimarsi gli animali mantenendo lo stato di non morto ma vivere come umano si mettiamo i paletti può mangiare animali si ma in realtà i non morti più potenti non gli basta non gli basta divorare gli animali hanno bisogno proprio di divorare carne umana e quindi ne hanno bisogno e quindi è un problema è un grosso problema si può mantenere si può fingere di essere un umano nonostante sia un non morto se si riesce a mantenere uno buono stato di conservazione in pratica essere poco putrefatto nel senso esserti conservato bene come si conserva bene sembra che siamo parlando di una conserva della frutta o della carne in scatola però come si conserva bene un non morto insieme praticamente cibandosi si blocca il processo di putrefazione del morto quindi cibandosi spesso non si non si inizia a imputredire non si inizia la decomposizione quindi si può mantenere un aspetto molto simile all'umano se però si è avuta la sfortuna che quando sei morto sei stato sventrato dalla bomba sei un sventrato dalla bomba con un morto non ha nessuna possibilità di rigenerare le ferite quindi bisogna ben vedere Red Robin 36 è una domanda di D&D quindi io non ci rispondo Sprushka che fine di video strana la volta scorsa no no comunque ecco la frase che parla dei non risvegliati nel tomo dei morti volume 1 vengono trattati diverse tipologie di morti tra i quali misteriosi non risvegliati coloro che si dice siano immuni al risveglio ok io non li ho mai trovati non sono in manuale base quindi saranno una cosa tanto particolare che non è stata messa in manuale base io non li conosco figo ma qui c'è il volume per capire meglio ah ok figo wow miracoli della scienza della tecnologia Sprushka sempre Sprushka mai morti posso attraversare i mari e i fiumi visto che non gli serve ossigeno sì possono sì sì possono anche perché mi sembra che nel San Tum Imperium si fa notare come la Sardegna poverina un po' sfigata è preda di numerosi assalti di morti che mancano dal mare anche se ricordo bene altra domanda se un morto semplice non percepisce carne viva si sposterà in direzioni casuali oppure resterà immobile partiamo dal semplice ma vale del simplex ma vale per tutti tranne per il per il Larvalis il Larvalis non potendosi muovere non ha scelta allora e anche l'Obnoxious quello incosciente quello che non sa di essere morto tutti gli altri hanno il senso comunque non hanno il senso di autoconservazione perché i simplex si buttano giù da un dirupo però hanno il senso della fame e la fame li spinge a cibarsi e a spostarsi sono come animali sono come predatori che hanno un bisogno istintivo di trovare la carne per cibarsi in qualsiasi caso quindi si sposteranno si sposteranno casualmente finché non percepiscono non fiutano la loro preda però si sposteranno Denilais cartomante 1 riguardante il gioco di ruolo in generale quanto è affidabile utilizzare un personaggio capace di sfondare la quarta barriera ovviamente dovrebbe essere motivato ovviamente dovrebbe essere motivato personaggio capace di sfondare la quarta barriera vuol dire sapere che si trova in un gioco nel senso specifica perché come attore la quarta parete ho presente la quarta barriera la quarta dimensione Denilais non so bene la tua domanda comunque di base ti risponderei di no il gioco di ruolo è un gioco di ruolo punto se esci dal gioco il tuo personaggio sai di una resta in un gioco non ha senso cioè non giocare a quel punto non sei Deadpool se ti sei ispirato a Deadpool non sei Deadpool ok ho visto alcune immagini del manuale del regno di Osiride che ritraevano varie creature mitologiche del posto sfingi divinità e cose così come è spiegato so che è sovranaturale tutto il resto ma vedermi a Nubis che bazzica in giro mi farebbe sorgere qualche domanda allora in regno di Osiride tenetevi forte sfingi sfingi minotauri perché c'è anche minotauro e tutte quelle altre creature non sono soprannaturali nel senso che sono creature messe insieme legando tra loro parti di animali e di uomini entrambi morti ed entrambi che si sono svegliati di chi opera questa? del greco si chiama solo greco o in un altro modo? non mi ricordo di sicuro non c'è nome comunque nel regno di Osiride si fa riferimento al fatto che Ramesse III richiede i servigi di questo greco che è in grado di unire insieme un uomo e l'animale per creare degli ibridi le sfingi metà donna metà leone un minotauro che in una festa rituale ogni anno il faraone sconfigge il minotauro ha la testa di toro e il corpo di un uomo tutte queste creature sono morti risvegliati che hanno fame che vogliono cibarsi di carne che si cibano di carne umana ma per quanto strano la fusione è perfetta quindi la fusione tra la parte umana e la parte animale è perfetta quindi si muovono all'uniso non sono creature sopranaturali anche se ovviamente nel regno di Osiride nessuno lo sa e quindi tutti pensano che siano una dimostrazione della divinità del faraone ovviamente servono per indurre in soggezione la popolazione che vede queste creature queste creature terrificanti tra l'altro sempre in quella festa particolare che viene svolta ogni anno adesso non mi soviene Ramesse porta al guinzaglio il guardiano dell'aldilà per farci capire la divinità nell'antico Egitto la divinità che divora i cuori dei cuori impuri è questa specie di coccodrillo coccodrillo l'ippopotamo mischiato con altre parti degli animali cioè nel senso è una brutta roba ed è enorme ed è terrificante ma serve tutto per dimostrare la divinità del faraone Matteo di F Biginato in un blog ho imparato di un cerbero dei tedeschi cosa cavolo è il cerbero dei tedeschi è un doberman a due teste il nel nel centro di ricerca tedeschi si è sperimentata la genetica e quindi anche la creazione di mostri genetici tra cui uno di questi il più stabile uno di nel sinereco hanno 13 uno di questi mostri il più stabile di questi è appunto il cerbero a due teste questo cerbero i cerberi a due teste adesso vi faccio vedere un'immagine così siamo contenti il cerbero a due teste praticamente è uno dei progetti più stabili dei mostri più stabili riusciti a ai scienziati tedeschi ma non sono gli unici ne stanno creando molte altre di queste creature vengono usati solo dalle SS e sono comunque ormai consuetudine spero si veda cerbero queste belle creature sono cerberi cani a due teste ma ce la faccio sono spasti questa sera cani a due teste molto feroci molto molto forti passiamo alla seconda domanda e poi se ho capito bene in Russia tutti i soldati sono dei robocop più fighi no non sono robocop non sono più fighi in Russia esistono le biomacchine praticamente sono macchine guidate da una mente umana viva perché nella mente se dovesse morire diventerebbe la mente si risveglierebbe la mente e per quanto assurdo questa mente è collegata a una macchina e quindi per quanto assurdo la macchina si muoverebbe per tentare di sfamarsi e quindi ucciderebbe qualsiasi cosa che incontri per tentare di sfamarsi che bello quindi a rischio e pericolo ovviamente creare queste questi mostri il ci sono anche aggiunte meccaniche fatte su uomini sui gladiatori o anche sui vari meccanici che le pinze meccaniche attaccate ai corpi ma non devi pensare a una robocop nel senso perfetto funzionale tutto ma sono robe devi pensarle più una cosa più non è giustissimo più lo steampunk anche se non è corretto come termine sono cose un pochettino più raffazzonate o comunque non così perfette cioè sfondano insieme uomo e macchina ma ovviamente c'è sempre una componente marcia in tutto ciò quindi non sono robocop e non sono più figli e seconda domanda se già me lo stai per chiedere la maggior parte delle biomacchine sono non posso non puoi interpretare una biomacchina che se hai una mente totalmente hai subito l'avaggio del cervello sei solo una mente e sei dentro la macchina punto non puoi fare nulla se sei uno con una modifica corporea beh di sicuro se esci dal soviet ti ammazzano cioè proprio certo poi si deve vedere se ti ammazzano ma di sicuro ci provano passiamo avanti cappellaio matto sto cercando di creare tra l'altro quanto siamo 22 minuti sto cercando di creare un medico del sanctum imperio che ovviamente in segreto è anche un barattonaio cosa ne pensi? allora è una buona una buona idea io ti consiglierei di però fare quel genere di medico che è che non è sedentario che si può spostare quindi diciamo immaginano come un medico che ha dietro di sé il carrozzone per spostarsi di città in città tipo il medico generale che si sposta di paesino in paesino perché non c'è un medico nel posto e aiuta magari si occupa è un po' dittista un po' un po' stetrico fa un po' di tutto così dai un senso se no sei un medico stabile non lo so perché i burattinai mi hanno sempre dato l'impressione una sette dei burattinai come una setta che si applica molto su quel lavoro sui burattini mentre un medico ha numerosi impegni e nel sacrum imperio quasi tutti i medici in delle città lavorano a stretto contatto con la chiesa quindi molto pericoloso comunque di base l'idea non è morto e che cavolo morirò davanti a questo a questo schermo mister francesco si sa qualcosa della cina se si hanno costruito la moraia cinese per evitare invasioni la moraia cinese c'è già quindi la vuoi ampliare ma campacavallo che l'erba cresce non si sa nulla della cina per quanto io ho letto e ovviamente della moraia cinese non si ne sa nulla ma ripeto se Gengis Khan che era un mongolo e non voglio insultare era un mongolo ha avuto l'idea di girarci intorno un morto senziente veramente ci girerà intorno i simplex si scanteranno sulla moraia ma gli altri ci girano intorno e comunque è più facile che i morti siano già all'interno piuttosto che all'esterno perché ce li devi spingere all'esterno ok chi fa master dunque master se un gruppo di quattro uomini si pongono i quattro appurti cardinali di una fossa comune tutti e quattro equidistanti da essere la fossa si dividerà in quattro parti per via del fiuto dei morti che consente loro di muoversi verso il borsaglio più vicino spero di essermi spiegato bene ringrazio te più tutto il team di Dice Games Italia per quello che ci state facendo il lavaggio del cervello vi stiamo facendo chi fa master ma che cappero di domanda è se quattro uomini si pongono i quattro punti cardinali equidistanti da essi intorno a una fossa comune ma per favore ma che domanda è non può succedere punto veramente lascia perdere che domanda rum 1080 stavo ascoltando le varie risposte sono arrivato praticamente alla fine della domanda dei cyber mac non sono cyber sono biomacchine e mi è venuto in mente allora ovviamente gli uomini con una parte in sé si potrebbero definire circa cyborg ma non lo vorrei usare perché è un termine scifai qui non siamo nello scifai e mi metto una cosa i cyberman sono sulla terra e perderanno il sopravvento i cyberman di doctor who oh cazzo è vero i silorecchi nel suo avvento hanno le menti umane ma nel corpo robot come i cyberman oh cazzo cazzo rum complimenti beh questo è interessante Giulio Ciccolo cartomante ma si può passare liberamente da uno stato all'altro senza problemi ripeto non è così facile i confini sovietici sono secondo me a mio parere io come master mi renderei invalicabile ci sono troppe due macchine che tenteranno di assassinarti oltre che morti erranti il quarto right controlla tappeto chiunque entri il sanctum imperium un idem appena entri in una delle cittadine regno di osirite magari si comunque è molto difficile te lo devi giocare molto bene si può però è molto difficile non è una cosa facile e ovviamente non si può passare liberamente è come se fossero sono stati praticamente sull'orlo della guerra alessio ballerini se il mio pg è un soldato della wehrmacht armato di mp40 e sparo con una raffica a un mort a distanza ravvicinata quest'ultimo riceve più danno anche se non faccio un critico grazie per aver risposto alla mia ultima domanda figurati per questa domanda non è che fai più danno tu userai più colpi quindi estrarrai più tarocchi ora qua bisogna andare sulle regole avete preso il manuale leggevi bene le regole questo preferirei non andare a spiegare tutte le regole per la raffica lasciamo che no questo leggetelo ragazzi comunque non farei più danno cioè fai più danno perché puoi colpirlo più volte ma non è che è un simbolo colpo o meglio vabbè vai a leggerti la raffica appena è in manuale cerca di leggerti la raffica cartomanter da cosa dipende il tipo di morto che si diventa dopo il sveglio allora se ben ricordo c'è una specie di tabella in fondo a da usare o una roba una cosa del genere per vedere in che cosa si trasforma bisogna fare un check mi pare e ti trasformerai però bisogna andare bene a leggerlo e sinceramente questa parte non la ricordo comunque c'è un capitolo dove si parla del risveglio e e ovviamente dopo che un personaggio è morto il giocatore che lo interpreta o il cartomante se si tratta di un png estrarrà due tarocchi se entrambi i tarocchi estratti rientrano tra quelli riferiti a una delle sottospecie riportate in seguito il cadavere si ridesterà in quella forma insomma estrai due tarocchi e se compaiono entrambi nella tabella sei uno di quei morti particolari se non rientri nessuno di quei morti sarai semplicemente un simplex molto semplice c'è proprio una tabella non ho video 2000 cartomante domanda molto stupida allora mi preparo ma i morti potrebbero fare sesso o dato che sono morti e non scorre più sangue e non si alza più è una domanda molto stupida lascio al tuo master decidere io me ne tiro fuori me ne tiro fuori mi dispiace e in effetti era proprio stupida a cappellas cartomante ma se è un sopravvissuto viene strutturato e ingoiato da un boa per esempio poi si trasforma comunque in un morto e esce dal suo stomaco in stile alien che può conosci a cappellas da che cazzo stai di la seconda domanda la seconda domanda è molto più intelligente e sicuramente cosa accadrebbe in caso di aborto nell'ultimo mese di gestazione secondo te infatti è molto è bello rimanere incinti in sinerequie le donne non sono molto felici se il fetto si è formato e muore proverà ad uscire già l'unica fortuna è che non ci sono i denti subito è l'unica fortuna ma è brutta una situazione sprusca perché il tizio con la scura ha attaccato Faust cosa sarebbe successo se Faust avesse provato a parlarci sprusca tu non mi puoi chiedere domande sulla storia perché sono della storia di quanto è successo quindi non ti rispondo yeah cosa sarebbe successo se Faust avesse provato a parlarci con un uomo armato di scure che ti aggredisce io non mi fermerei a parlare con un uomo armato di scure che mi aggredisce e non avrei fatto neanche fermare Faust l'ultima domanda l'ultima domanda di questo vblog oh yeah Giovanni Midiri cartomante se distrugge il cervello di un morto intelligente diventerà automaticamente un morto comune è interessante niente male come domanda Midiri Giovanni per gli amici guarda non ho letto nulla di simile al manuale quindi posso darti solo un parere mio personale cosa farei se capitasse a me a me master doverlo decidere in gioco io direi di sì direi che se riesci a meno mare a rimuovere o distruggere in gran parte il cervello di un morto senziente secondo me potrebbe benissimo regredire a un morto un tipo di morto più più semplice magari magari non un morto comune però magari un morto ferrox però in effetti è molto intelligente bella domanda bella domanda e sono contento di aver finito questo vblog con la tua domanda perché in effetti è una cosa che non credo che neanche gli autori ci avevano pensato proprio se per caso stanno guardando questo vblog chiede agli autori di Sine Reque di scriverlo qua sotto rispondere a Giovanni mi dire o farmi sapere in qualche modo così glielo dico io se vogliono perché in effetti è una domanda molto particolare molto particolare ok perfetto io con questa ultima domanda quindi concludo questo terzo no quarto yes quarto vblog su Sine Reque vi ringrazio per tutte le domande spero poterli farlo tra due secondi così eravamo in sintonia no luce maledetta vi ringrazio molto per le domande che ci fate a tutti vi ringrazio tutti quanti per il seguito su Dice Games Italia per il fatto che continuate a seguirci anche se abbiamo cambiato genere siamo passati a Sine Reque siamo contenti che vi stia piacendo molto anche questo questo gioco completamente italiano ricordo ragazzi italiano prodotto da italiani realizzato da italiani ideato da italiani quindi supportiamo il gioco di ruolo italiano ragazzi se volete più giochi di ruolo in Italia dovete supportare i giochi di ruolo spero di nel prossimo vblog di rispondere ancora altre domande vostre non risponderò domande sulla storia ragazzi non risponderò anche quando avrò finito la partita fior di nazisti avremo finito l'avventura fior di nazisti eviterò di rispondere alle all'avventura perché sto pensando se se scrivere una bozza ho visto che sul sul sito che usano alcuni degli attori di sinereque serpentarius games o serpentarium games se non mi ricordo caricano online delle avventure di sinereque non ho l'arroganza di volermi paragonare a loro perché alcune sono veramente belle ma mi piacerebbe magari scrivacchiare mettere insieme l'avventura di fiori di nazisti con quello che doveva essere delle linee guida perché ripeto io sono più per dare delle linee guida ai giocatori ai master in questo caso e poi da gestire in base a quello che avviene ecco in pratica mi piacerebbe fare una cosa del genere prossimamente non so quando la farò ma quindi mi terrò per me per ora anche cioè in base a come finisce o comunque in live dirò un po' la storia ma in questi vi vlog non risponderò ulteriormente alla storia di fiori di nazisti posso rispondere a tutte le domande che volete sui misteri di monte della croce perché è un'avventura del manuale base quindi possiamo discuterne quanto volete visto che chiunque prende il manuale base lo può leggere quindi può sapere ma di questa invece di fiori di nazisti vorrei per ora non farlo perfetto quindi vi ringrazio spero di vedervi quanto abbiamo fatto ma vabbè 37 minuti spero di rivedervi nel prossimo vi vlog spero di leggere molte altre vostre domande alcune intelligenti sicuramente le capiteranno altre stupide ma soprattutto vi piacerebbe leggere altre domande come quella l'ultima colletto di Giovanni mi direi ma sono capitate anche altre in questo vi vlog molto interessanti perché vanno a toccare argomenti che io non mi ero posto e forse non si erano posti neanche gli autori e quindi sono le cose sono anche le cose interessanti perché fa capire che vi state vi è piaciuto talmente tanto che siete andati a spulciare nelle cose nei particolari in gioco e questo è un ottimo indicatore sul fatto di quanto vi stia piacendo Sine Reque in generale e Death Games Italia in particolare quindi con questa ultima battuta che non è d'effetto però quest'ultima cosa io vi saluto ci vediamo al prossimo vi vlog ciao a tutti ciao bagai ho arrivato i bianchi frigo